Ma queste precipitazioni intense sempre nelle stesse zone, quanto dureranno ancora? La situazione fortunatamente al momento è in miglioramento, almeno fino a domenica mattina le precipitazioni non interesseranno quasi più il crinale con la Toscana, ma nuove precipitazioni giungeranno proprio fra Alta Toscana, Crinale, Trapiacentino, Parmese, Reggiano e Modenese nella giornata di domenica, nel pomeriggio sera, ma particolare attenzione alla giornata di lunedì e martedì mattina, quando una nuova intensa perturbazione potrebbe giungere nelle medesime zone, portando ancora accumuli di pioggia davvero ingenti. Situazione che andremo ad analizzare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, continuate a seguirci da Andrea Raggini, Sumico, Giulietta e prima c'era Gabriele, tutto, buon proseguimento!